Grazie. E' pronto? Ok. Se mi fai il 3, 2, 1 per la diretta. Grazie a tutti. Ci tenevamo tanto a invitarti al festival dei riscrittori e delle riscrittrici dell'immaginario, perché quando si pensa alla parola immaginario a me vengono in mente la fotografia, il cinema, la moda, la comunicazione. Ecco, quindi tu sei una delle più importanti attrici italiane e hai colonizzato, anche senza volerlo, forse il nostro immaginario. Allora, tu hai esordito nel 1986 con La seconda notte di Nino Bizzarri. Ecco, come racconteresti da allora, da una margherita che si è iscritta a Silvio D'Amico e che voleva fare l'attrice, a oggi in cui penso che tu abbia difficoltà ad andare al bar senza essere intercettata. Come ti rapporti ai sogni che avevi allora quando ti sei iscritta alla Silvio D'Amico? Mamma mia, avevo detto cose semplici. Vabbè, tu puoi dire questa non la so. Io tanto ho una sfizzo di domande, quindi quella a cui non vuoi rispondere mi ci salta. Comunque è vero che è identica ai suoi personaggi, scusate. No, no, non è vero perché adesso... Lei in realtà sta recitando, sì, sì, sta recitando. No, vabbè, veramente complicata, nel senso che tutto e niente, nel senso che io continuo a fare un lavoro che ha a che fare con questo, con un'immedesimazione, con un sogno che non è solo il mio, anche quello delle persone che scrivono prima e che poi mettono in scena, quindi comunque è tutto un immaginare qualcosa. Ancora, diciamo, mi piace. Che non è poco. Sì, che non è poco. A momenti sta cominciando a non piacermi più, ma cerco di scansare questo pensiero. Ma è normale, nel senso che si accumulano tante cose, tante esperienze, quindi il problema è ripetersi nelle cose che si fa. Quindi spengere un po' quel sogno, l'immaginazione e ritrovarsi delle volte a fare alcune cose, magari con un entusiasmo meno forte. Quindi questo è una cosa con cui sto facendo un po' i conti adesso, se qualcosa è cambiato, sta cambiando in questo senso, ma è normale, sono, diciamo, cresciuta. E quindi anche il mio lavoro è diventato, ha preso uno spazio così grande nella mia vita che a un certo punto diventa anche ingombrante. Non per gli altri, ma per me stessa, quindi ci sono anche desideri di immaginarsi delle cose diverse nella mia vita. Molto complicato, però chissà. Allora, il nostro vicino di casa, qui è Nanni Moretti, ti ha scelto, davanti al Sager, ti ha scelto per ben cinque film, se non ho contato male. Ma qual è il legame così stretto? Com'è lavorare con un regista che a noi appare così complicato, insomma, almeno da fuori, insomma, sembra una persona così? E soprattutto, come si è costruita questa liaison professionale tra voi? Sembri proprio l'attrice di Nanni Moretti, comunque a volte, diciamo, uno vi collega molto facilmente. Sai che ci sono dei droni qui che stanno passando e stanno cercando di intercettare quello che io dico di lui, per cui io non posso dire nulla, mai, terrore, perché è una persona magnifica, ma diciamo anche c'ha il suo... Insomma, sa farsi... Difficile. Sì, è una persona difficile. Però anche tu sei recidiva, allora. Ma sì, perché io sono una persona poi alla fine molto buona, molto diligente, molto... quindi... no, scherzo. No, sul buona... Sul buona ci siamo, però nel senso buona, nel senso non è che uno deve essere cattivo, però... cioè lo capisco, lo assecondo, sono molto calma con lui, molto tranquilla. E quella è la maniera, diciamo, migliore per prenderlo, ecco, non farsi tanto coinvolgere, perché poi i lati suoi positivi sono talmente tanti, talmente geniale, talmente... Che poi tutto quello che è il suo anche modo di gestire un set, di avere il suo rapporto con gli attori e con quello che fa, che alle volte è un po' ossessivo, per dirla in maniera gentile, e quindi io ve lo faccio molto scivolare, perché poi lo capisco, cioè... mi medesimo nel suo... cioè lui lo scrive, lo produce, lo gira, lo recita, insomma, quindi è proprio una cosa sua. Tu entri un po' nel suo mondo e devi stare un po' alle sue regole, ecco. Quindi avrai acquistato, ma non solo con Moretti, immagino che il vostro mestiere vi imponga una competenza relazionale mostruosa, sia nello studio del personaggio, sia avendo a che fare col proprio carattere, che, insomma, comunque la vita è difficile sempre per tutti, sia avendo a che fare con grandi artisti, come sono molti dei registi con cui hai lavorato. Consideri, a proposito di quella ragazzina che si era scritta alla Silvio D'Amico e alla Margherita che sei oggi, consideri di aver acquisito un expertise, come si dice oggi, in ambito di competenza relazionale? Ma insomma, ci provo, io poi ho sempre il mio carattere, non è che poi... Però è chiaro che sono cambiata, ho un pochino più di rispetto verso me stessa, nel senso che alle volte uno si fa fagocitare, no? Quando sei più giovane ti fai trascinare, oppure non sai gestire, insomma, i tuoi anche impulsi più violenti, magari violenti nel senso più di emanciparsi su certe situazioni. Quindi adesso sono chiaramente più tranquilla, non sempre però, perché comunque io mi faccio abbastanza valere adesso. Senti, a proposito di... Sono registi qua, no? Sono? No, dico, non c'è un regista con cui... Non si può sapere, non si può sapere. Senti, a proposito di adesso io sono tranquilla, dopo il film con Verdone, la gente pensava che davvero tu fossi dipendente di psicofarmaci e questa cosa ti è rimasta addosso? Giuro, vi faccio vedere la mia borsa, non c'ho neanche un Lexotan, non c'ho niente, sono anzi terrorizzata dalle medicine io, veramente. Ma ti è capitato adesso, a parte questa battuta, ti è capitato di essere confusa con i tuoi personaggi? Credo che sia una cosa che capita a ogni attore, vero? Sì, no, quello è stato micidiale, nel senso nel bene e nel male, mi ha, diciamo, mi ha fatto conoscere a un grande pubblico, è stato un personaggio meraviglioso, però, certo, confondermi con lei è stato un attimo. Per togliermelo di dosso, non credo di esserci ancora riuscita, perché mi fanno sempre le battute, eh, stasera che te prendi? Cioè, niente, mi prendo una camomilla, mi figlio, la valeriana, ti è proprio quando sto nervosa, no, però va bene, è una piccola cosa. E tu ti sei mai confusa con un personaggio? No, certo, ci sono dei personaggi talmente forti, talmente, che ti evocano, che ti, non so, ti stravolgono quando dici alcune cose, quando entrano a far parte di te stessa, sì, certo, alcune cose rimangono. Però, insomma, io, in questo mi faccio abbastanza i complimenti, nel senso che ho una capacità di poi, di scordarmi tutto e di ritornare a essere la stupida e cretina che sono nella mia vita normale. In che senso stupida? Non avevi detto che avevi cominciato a volerti bene. No, infatti, mi sono ridimenticata. Stupida, cioè, io sono una persona molto semplice, molto così, naif, cioè, poi, questo mi salva da tante situazioni. Il mio recupero è abbastanza veloce, ecco. Beata te. Senti, tu hai fatto la fidanzata, la moglie, non mi ricordo, di Sabrina Ferilli, come si intitolava il film? Io e lei. Maria Sole Tognazzi, con cui sto lavorando adesso. Ah, ecco, adesso ti faccio subito qualche domanda per avere qualche informazione. No, allora, quel personaggio ha avuto, è stato criticato, voi due come coppia, siete state criticate dalla comunità LGBTQ+, perché poco credibile, lei invece ha ispirato tantissime persone che non fanno parte di quella comunità, spalancando l'immaginario su questo tema, no? Perché ovviamente quando uno ha, in inglese lo chiamano il rule model, no? Quindi grandi attori e grandi attrici, non ti immagini che possano poi impersonare la parte che poi può essere così vicina a te, in quel caso se tu sei una persona omosessuale. Cosa ci racconti di quel personaggio? Hai provato difficoltà a farlo? Ti sei divertita? Ti ha fatto riflettere? È stata un'interpretazione particolarmente significativa o invece al contrario ti è stato un personaggio secondario rispetto a tutti quelli che hai interpretato? No, no, è stato un personaggio, a parte mi sono divertita tantissimo, cioè proprio, anche ad avere un partner così, donna, perché spesso hai questi partner maschili insopportabili, no? Cioè nel senso che devono essere sempre all'altezza, sempre molto così, beh insomma protagonisti, no? No, cioè loro, anche, devo dire, anche Sabrina è una protagonista, nel senso che è una che si fa valere, però ci siamo divisi il set in maniera molto, molto divertente, ci siamo, poi noi ci stavamo già molto simpatiche, già da prima, lei era felicissima di fare un lavoro, comunque, diciamo che lei ha considerato, insomma, bello, una delle cose migliori che poi ha fatto, con Maria Sole ci siamo trovate bene, quello che, e poi mi ha divertito anche tutto questo, diciamo, parlare intorno a questo film, è chiaro che forse non siamo piaciute a tutte, a tutti, in un senso che non, provavo sicuramente un po' di imbarazzo a baciare, ma proprio a baciare Sabrina Ferilli, non a baciare una donna, cioè a baciare lei in particolare, perché comunque, insomma, così, ci siamo molto, ci siamo ubriacate, chiaramente. Ah, cioè, la scena del bacio eravate ubriache? Completamente, lei ci aveva nella borsa, tipo Mary Poppins, invece degli psicofarmaci, ci aveva delle bottigliette di grappa, che ci siamo divise, a Marghery, piate questa, io mi pivo questa, cioè, proprio, perché eravamo imbarazzati, ma, ma io ero imbarazzata, perché comunque, lei è proprio un'icona, così, insomma, Sensualona, c'era la truppa che proprio stava qua, bava la bocca, io mi sentivo un ragno che stava lì, abbinghiato a lei, per cui ci avevamo pensato, però, adesso, più di tanto noi non ci è stato chiesto di fare, però, insomma, devo dire che è stato, appunto, l'ho detto varie volte, è stato un bacio, veramente, poi, alla fine, bello, mi è piaciuto, anche a lei dice che è piaciuto, quindi, cioè, ci siamo trovati. Ci siete trovati, esatto. Senti, secondo te, nella rappresentazione dell'omosessualità, oggi, nel cinema italiano, da quel film in poi, è cambiato qualcosa, cioè, secondo te, è più una rappresentazione a portata di mano o no? Guarda, io, comunque, ho fatto un film, adesso, perché, diciamo, quando ho fatto Le Fate Ignoranti, non ero io, diciamo, sì, però, diciamo, che il tema, all'epoca, era un tema molto più, diciamo, Scandaloso. Scandaloso. Perché due uomini, io che entro dentro questo strano triangolo, mio marito, insomma, la scoperta di un mondo, io mi ricordo che all'epoca, insomma, era stato... Sì, è stato più forte quello di... Sicuramente è stato più forte quello, no? Poi, diciamo, che da quello, eccetera, poi si sono venuti fuori tanti altri film sul tema. Noi l'abbiamo affrontato in una maniera anche molto, diciamo, proprio da commedia, romantico, insomma, però penso che comunque, e quindi anche parlarne in quel modo, con una coppia, diciamo, che sta insieme da tanto tempo, quindi una coppia non passionale, cioè non è... però che si vuole bene, che sta bene insieme, eccetera, abbia comunque dato, abbia aperto anche poi degli altri racconti, magari diversi, sicuramente diversi. Mi sento in questo che ho comunque portato avanti, prima con quel film, poi con questo, cioè, in maniera diversa, però un tema che è giusto veramente, cioè, parlarne, ma anche parlarne in maniera, anche divertente, anche... Cioè, senza farne una bandiera per forza di qualcosa che... Io sono stata... quel film, ecco, mi ha dato questa sensazione, cioè, l'idea di portare un film anche gradevole, carino, no? In cui si parla in maniera non per forza così... Sì, sì, politicizzata... Sì. Beh, ma infatti lo slancio iniziale, quando ho iniziato a tormentarti per invitarti a questo festival, è stato proprio, dato che qui è un festival di riscrittori e riscrittrici, proprio con l'idea che il cinema ha un ruolo importantissimo nella scrittura dell'immaginario, e che tu avevi fatto due film, anche in ruoli molto diversi, molto importanti sulla riscrittura dell'immaginario dell'omosessualità, ma dal mio punto di vista è come se tu e Sabrina fossero state in qualche modo dei testimonial, perché un conto è una produzione indipendente con attori sconosciuti che tu vedi per la prima volta nello schermo e per cui l'impatto emotivamente è minore, è un conto e tu vedi degli attori, in questo caso degli attrici, a cui hai già associato le tue emozioni, insomma, personaggi in qualche modo che tu conosci, che vedi improvvisamente in un ruolo... Quindi questo, secondo me, ecco, quel film lì in particolare con Sabrina, secondo me ha veramente riscritto l'immaginario, anche perché poi due donne che erano omosessualità femminile, se ne parla molto meno. Senti, qual è il personaggio a cui tu ti senti più legata, nel quale ti sei più identificato, e poi invece quello che ti ha più divertito, cioè che ti sei proprio ammazzata? Non lo so, aspetta, questa non me la ricordo, la somma non me la ricordo... Ma mi hai detto che avevi studiato, però ti ho detto, mi raccomando, studia! No, aspetta, ma no, veramente, cioè, non ho... Cioè, io, di solito, quelli a cui sono più attaccato sono quelli in cui ho fatto una fatica bestiale, capito? Sempre per il tema del volersi bene. Esatto, sì. Cioè, io adesso ho fatto una cosa che è uscita solo in cinema per poco tempo, ma che adesso uscirà poi sulla Rai, che è questa serie, miniserie di Bellocchio, in cui ho interpretato quella splendida donna, che era la moglie di Moro. Ecco, io adesso questo, cioè, mi è rimasto talmente presa alla fatica che ho fatto, perché è veramente... E sono molto affezionata adesso, perché voglio che piaccia a tutti, perché io ho fatto una fatica terribile. E quando esce? E voglio che, insomma, ecco, voglio il riscontro, cavolo. Ma quando esce adesso sul... Con i politici parlavo, con le cose, c'è un linguaggio, una fatica... Va bene, scusate. E quando esce? Mi sono lasciata prendere da... Cioè, se non vi piace, non ve lo dite. Ecco, perché veramente, cioè, no, no, perché è stato Gifuni, capito? Un po' impegnativo, diciamo. Impegnativo in un modo pazzesco, ecco. Quindi adesso ci sto attaccata proprio come una cozza allo scoglio, perché voglio... Ma come fai mentre esce un film a lavorare sul successivo? No, vabbè, adesso, insomma, tra l'altro tra poco ci sarà di nuovo una conferenza stampa, mi dovrò rimettere in quella... Esatto, in quel mood della signora Moro, quindi... Eh, appunto. Cioè, quindi tu di fatto, lavorando, c'hai dei periodi della tua vita in cui ti devi sintonizzare velocemente, devi switchare velocemente da un personaggio a un altro, a seconda se stai girando... Cioè, se stai presentando una cosa ma ne stai girando un'altra. Vabbè, adesso poi ho fatto questo ultimo film di Moretti, che sarà molto divertente, io credo. Quale? Si chiama Il Sol dell'Avenir, che ancora non è uscito. E anche lì mi sono... Ecco, dacci qualche anticipazione. Non si può, sei pazza! Va bene, scherzo, scherzo. Mi senti i droni? Mi senti i droni? Scusami, scusami, sono un po' naif, perdona. Quella sta qui. Ah già, ti sente proprio? Almeno se ti sei divertito... E' un film bello, cioè, nel senso, non che gli altri fossero brutti, però dico, insomma... E no, perché guarda, sembrava che volessi alludere a questo, eh. No, volevo dire... No, no, eh, no. Volevo dire che l'ultimo che ho fatto, che si chiamava Tre Piani... Bellissimo. Bellissimo, però anche lì è stata una cosa, insomma, impegnativa. E qui non dico che non lo sia stato, però c'era un clima, diciamo, più festoso, c'erano attori con cui io interagivo con Silvio Orlando, con... C'è un cast, se non ricordo male, c'è un cast tantissimo, il corale. Sì, sì, il corale. Io poi avevo una troupe che dovevo... perché faccio la produttrice, quindi molto... mi sono divertita. Aggressive. 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 Senti, invece con Maria Soletto Nianzi a cosa stai lavorando, dicevi? Stiamo facendo un film... io sto facendo una... faccio una, diciamo, partecipazione... Che è la partecipazione? Insomma, non sono la protagonista. Faccio una psichiatra. Infatti vedi che ho degli atteggiamenti un po' di... Perché stai nel ruolo. Stai nel ruolo. Migrato. Sono una psichiatra. È tratto da un romanzo della Gambarale. Gambarale, no? Chiara. Chiara. Che si chiama... Gamberale. Infatti, sapevo, sbagliavo. Io l'ho chiamata Gambareale, quindi... Gamberale. Gamberale. È un film che... sì, è un libro che credo si chiamasse proprio Dieci minuti. È stato tratto questo film in cui, appunto, c'è una storia abbastanza autobiografica, credo. E l'attrice si chiama Barbara Ronchi, che è bravissima. Ah, sì, sì. Lo conosco. E niente, io sono questa psichiatra che infatti gli consiglia di passare dieci minuti al giorno di un'esperienza, fare un'esperienza mai fatta. Mai fatta? Sì, mai fatta. E pare che funzioni. Infatti io ci voglio provare adesso. Ma chi sta parlando? La psichiatra o l'attrice? La psichiatra che però diventa paziente. Perché diciamo che... Ma quindi ti ispiri dai tuoi personaggi? No, vabbè, comunque... Ma i tuoi personaggi ti ispirano... I tuoi personaggi ti ispirano la tua vita? Ti succede questa cosa? Perché per te è ovvio, ma noi che facciamo un altro lavoro, non è facile capire questa cosa? No, però ci sono delle buoni consigli, oppure delle buone situazioni, delle belle cose che imparo anche dai miei personaggi. Questo sì. Cioè in questo caso fare la psichiatra, che non mi sarei mai aspettato nella mia vita di fare una psichiatra, come quando ho fatto la preside, cioè io che sono stata rimandata in 18 materie all'anno, io mi sono ritrovata a fare la preside di una scuola. Una nemesi stupenda. No, quindi fare la psichiatra, no, in questo senso mi sono... Avendo fatto la paziente tutta la vita, come abbiamo detto, no? Che la borsa è piena ai psicofattici. No, però è bello perché ci sono dei dialoghi molto belli, perché poi è stato anche riscritto dall'Archibuggi e sempre anche da Maria Sole. Beh, insomma, è divertente trovarsi di fronte ad un paziente, dargli dei consigli, è chiaro che poi li dai anche a te stessa. Questa terapia stranissima nei dieci minuti è chiaro che mi ha fatto un po' pensare, perché ci sono delle cose che sono proprio, su cui noi siamo proprio bloccati e non faremo mai, no? E quindi darsi questi dieci minuti di totale follia, cioè non per forza follia, però di libertà nel fare qualcosa, mi ha aperto una strada anche a me, cioè mi diverte, mi sono divertita, cioè a fare questa cosa, che ancora non ho finito però. Ma è quando uscirà? Non si sa. No, non si sa. Non si sa. Ma è un'altra di quelle cose che non si possono dire o non si sa veramente? No, no, non si sa veramente. Cioè, almeno io non lo so, magari loro lo sanno, ma io non sono l'ultima a saperlo. Senti, a Repubblica hai dichiarato che far ridere ti piace molto. Hai detto, penso a maledetto il giorno che ti ho incontrato, che c'era un clima così allegro. Non ho più quell'età, non mi affidano quei ruoli. Non è una critica, ma è la realtà. Allora, noi siamo molto impegnati su... È un momento di depressione, secondo me, quando ho scritto questo. No, no, vabbè, però meno male che l'hai detto, perché così io ti posso fare questa domanda. Perché noi siamo molto impegnati sul tema dell'ageless, cioè di creare corridoi tra generazioni, pensando che dividere la società e comunque la propria vita a gruppi di età, come si chiama, omologhi, sia qualcosa che impoverisce e non arricchisce. Questa cosa che tu hai detto, al di là del fatto del momento di depressione, che significa per un'attrice essere ingaggiata su ruoli che ovviamente maturando, crescendo, invecchiando di come ti pare, cambiano ovviamente? Che cosa succede? Come la vivi questa cosa? Vabbè, adesso non vorrei... Metterti a piangere? No, fare piangere tutti. No, ma io guarda... Noi siamo abituati a piangere quando parli, in tanti tuoi film piangiamo mentre ti guardiamo. No, ma insomma, io non sono una... In questo non mi sono mai fatta troppi problemi, devo dire, sia quando dicevano che non c'erano ruoli per le donne, eccetera. Io poi me la sono sempre cavata, tutto sommato. E quindi non vorrei piangere nemmeno adesso, cioè piangermi addosso, nel senso non mi danno più i ruoli. Non so perché l'ho detto quella cosa, ma... Naturalmente, diciamo, i ruoli più comici di solito sono un po' legati anche a un'età, nel senso in cui c'è una scoperta della vita, c'è una scoperta dei rapporti personali. E' chiaro che c'hai più spazio, no, per fare comicità. Un'età più grande è un'età destinata... Ma tu mica sei un'attrice comica, necessariamente? No. Ah, dici in generale. In generale, credo che anche uno scrittore, uno che scrive, uno sceneggiatore, si riferisca magari in quel momento ad una persona più giovane che si trova di fronte a tante cose nella vita, che magari uno quando è più grande invece ha già in qualche modo risolto o non risolto, ma non fa più ridere. Cioè, vedere una persona più grande che ha delle problematiche... È vero, diventa drammatico. Diventa più drammatico. Ecco, quindi ci vuole una grande scrittura. Scrittura che sanno fare sicuramente forse più gli inglesi, i francesi, che trovano anche sempre un'ironia sotto. Perché noi invece, chiaramente, ci troviamo poi, appunto, ci confrontiamo con delle scritture che sono sempre molto più drammatiche. Non lo so perché... Noi italiani? Sì. Perché o facciamo una commedia molto leggera, non dico che non faccia ridere, non dico che sia apprezzata dal pubblico, però molto leggera, oppure facciamo delle cose molto serie, molto belle, ma molto serie. Cioè, questo... In questo momento è un po' difficile, forse. Non lo so, lo vedo io forse così. Però sicuramente un'età come la mia è più difficile raccontarla sotto forma di commedia. Però... Sì, è vero comunque del cinema francese. È vero, il cinema francese non ci avevo pensato. È pieno invece di storie, di ruoli, di sceneggiature. Gli americani, eh? Pensa quante attrici ancora recitano ruoli buffi mettendosi molto... Sì, sì, è vero. Però in Italia è un po' più difficile. Senti, a proposito di americani, il talento di Mr. Ripley, ma che esperienza è stata lavorare con gli americani, in un modo di produzione così strutturata, così... Forse immagino, non lo so, dimmi se sbaglio, è diversa da... Sì, sì, super strutturata, sì. Molto diversa da come lavoriamo noi. Che esperienza è stata? No, bella, bellissima, chiaramente. Non sento questo desiderio di lavorare per forza in queste grandi strutture. Mi piace più il mio, perché è più piccolo, più... Lì c'erano 3.000 persone, 4.000... Poi, non so, in particolare lui era un regista pignolo in un modo da staccargli la testa, quindi... Tanti soldi, delle volte tanti soldi, boh, chissà se fanno bene. Però, insomma, per me è stato divertentissimo, quello sì, divertentissimo. Sì, ti sei divertita. Sì, 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 mi sono divertita, mi sono... Cioè, sembra di stare proprio in un circo. Senti, che ruolo ti piacerebbe fare prossimamente? Oppure che ruolo ti manca? Perché comunque ti sei declinata in tanti personaggi, almeno, non so, adesso, dato che ora o chissà, magari il pubblico vuole farti qualche domanda, però personalmente io, con te, mi sono ritrovata a ridere, a crevapelle, a piangere, a riflettere. Anche una bella responsabilità. Te la senti, questa? Oppure invece ti... Cioè, tu sei consapevole... Sì, sì, no, mi sento responsabile moltissimo. Quando scelgo di fare una cosa, cioè... Innanzitutto è un tradire me stessa. E non l'ho veramente mai fatto. Che vuol dire per un'attrice tradire se stessa? Perché lo stereotipo vuole che se fai l'attrice tradisci quello che sei veramente, perché fai... Ah, no, certo. Sì, sì, no, puoi fare qualunque cosa, ma devi fare... Cioè, per me tradire vuol dire fare una cosa in cui non credi, in cui lo fai per altri motivi che non sono quelli artistici, motivi di sentire un progetto, di sposare una causa, di sposare un progetto, di essere dentro la cosa. questo, penso. Poi, che cosa voglio fare? Sì, una cosa divertente. Quindi, appunto, ti interessa ancora sondare l'aspetto più leggero? Sì, sì, molto. Non so se sono più capace di farlo, perché dopo tutti questi drammoni mi è venuto un po'... E no, adesso dobbiamo assolutamente vedere, conoscere la moglie di Moro. Assolutamente. No, mi deve piacere proprio, eh? Cioè, proprio non voglio sentire volare una critichina. No. Senti, ma invece... Io l'ho conosciuta, non era così. Ti cavoli. Sì, per forza. Senti, ma invece riguardo alla tua gestione emotiva quando lavori, ti ripeto, sono domande che forse per te sono cose ovvie, ma è molto difficile immaginare come si fa... Poi abbiamo finito, giuro. È l'ultima domanda. È difficile immaginare per noi, che appunto facciamo altre cose, cosa vuol dire nella propria vita continuamente immergersi nella psicologia di un altro personaggio. Io mi immagino, ma dimmelo tu, proverai le emozioni che provoca il personaggio, sennò come fai a esprimere le... ecco, a dare vita al personaggio. E come fai a gestire tutte queste stanze dentro di te, tra la te vera, oppure magari un giorno ti gira una manetta e devi andare sul set e fare una cosa... ecco, appunto, far ridere, che ne so. Insomma, come si fa a gestire tutta questa cosa? Poi immagino che ormai sarà un mestiere farlo, esatto. Ma sì, si impara, è un mestiere, devi un po'... È un mestiere, eh? Si impara, si migliora, alle volte si peggiora. Insomma, cominci, insomma... La giornata è un lavoro, quindi cominci la mattina, vai lì, cerchi di farti passare appunto tutti i pensieri che hai. E poi è molto compito di regista, ma è anche un grande compito di chi scrive riuscire a farti entrare dentro il personaggio. Cioè, comunque, la scrittura è alla base di tutto questo. Non dico perché sono... Cioè, perché una bella scrittura, una scrittura buona, ben fatta, è già il 50% di quello che devi fare. E quindi dentro la scrittura e dentro il senso che ci sono dentro le parole trovi poi il senso di quello che devi fare ed entri dentro questa cosa. Proprio entri dentro le parole, dentro le risposte dell'altro. Insomma, è un lavoro in cui devi entrare. E riguarda l'amore, secondo te, questo. Ci vuole amore per fare questa cosa, per fare questo processo di entrare dentro quelle parole. Ci vuole amore per quello che... Sì, nel momento in cui lo fai, nel tuo lavoro, in quello che dici. Quello che dici deve essere... Deve arrivare da qualche parte. Cioè, deve scaturirti da qualche parte. Non può essere solo una tecnica, perché sennò, secondo me, un po' si vede. Va bene, io ti assolvo da questa tortura e ti volevo ringraziare e anche raccontarvi che io sono stata, ho fatto la goccia cinese con Margherita, ma Margherita ha aderito, ha fatto questo dono, perché come sapete tutti gli artisti, gli intellettuali, insomma, tutte le persone che vengono a questo festival vengono a titolo volontario per sostenere il manifesto, per sostenere il progetto. Quindi io ti sono particolarmente grata di aver affrontato il viaggio per venire qui del tuo tempo, perché come dico sempre che uno può magari fare corno, questa è un'ora che non tornerà mai più nella nostra vita, quindi è stato preziosissimo, non ce lo dobbiamo dimenticare. Siamo stati un'ora qui insieme e l'abbiamo spesa così, quindi ti ringrazio profondamente e soprattutto da parte nostra, per noi sei una riscrittrice dell'immaginario contemporaneo, quindi grazie. 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 Grazie.